dalla lettera di paolo ai romani questa beatitudine qui paolo si riferisce all'alleanza di dio con abramo e con tutti i suoi discendenti dunque questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso la fede fu accreditata ad abramo quando era circonciso o quando non lo era non dopo la circoncisione ma prima si risponde paolo in tal modo conclude abramo divenne padre di tutti non circoncisi che credono qui paolo riprende lo stile di dio di essere esagerato nel dare sta dicendo in pratica che nulla di quanto abbiamo è regolarmente guadagnato da noi in effetti noi tutti viviamo diciamo così al di sopra delle nostre possibilità non nel senso della nostra società degli eccessi bensì nel senso che anche il solo vivere è un dono impossibile da guadagnare e ogni altra grande cosa della vita è sempre il solo un dono di dio su questo siamo d'accordo ma per chi vale tutto questo paolo fa un passo avanti rispetto ad abramo abramo diceva dio garantisce tutto questo solo per chi si circoncide paolo ora invece si lancia abbatte ogni barriera e sostiene in modo ragionato che dio è totale nel bene anche verso i non circoncisi dio non pone limiti a chi dare il suo amore il problema era che gli ebrei avevano pensato di tenersi in esclusiva tutti per loro i doni di dio paolo no o almeno non più perché paolo da ebreo rigoroso anzi rigido anche lui pretendeva l'esclusiva dei doni di dio però poi quando conosce il cristo paolo abbraccia la sua posizione opposta gesù diceva i doni di dio sono per tutti anche per i non circoncisi scandaloso a dirsi per i correligionari di paolo eppure sì per tutti oggi noi potremo aggiornare il messaggio di paolo i doni di dio sono solo per i cristiani o anche per i non cristiani e se dovessimo dire sono per tutti anche oggi nella nostra chiesa ci sarebbe chi si alzerebbe a dire non è giusto e magari i più colti doveva finire così l'antico detto fuori dalla chiesa cattolica nessuna salvezza i doni di dio noi cristiani li vogliamo in esclusiva ecco questa è la vera bestemmia tutto dio è pronto a darci e tutto personalizzato ma di nulla possiamo dire solo per me agli altri niente grazie a tutti